Eleonora Giorgi, terribile notizia inaspettata, lei purtroppo è. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. La famosa attrice Eleonora Giorgi continua a tenere i suoi fan con il fiato sospeso. Dopo aver affrontato le chemioterapie per il tumore al pancreas, oggi è arrivata una notizia terribile. L'ultima confessione di Eleonora aveva lasciato tutti sbalorditi e fortemente preoccupati. per il suo benessere. Nonostante la sua determinazione a combattere questo brutto male, le recenti notizie hanno lasciato tutti senza parole. Eleonora Giorgi dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico per il tumore. In una sincera intervista, ha condiviso dettagli angoscianti di questo nuovo sviluppo. «Mi preparavo per stare bene, ma devo finire ancora sotto i ferri, e non me lo aspettavo», ha spiegato Eleonora. «Ho una strizza paurosa di non riuscire a superare quest'altra sfida», la sua voce trema leggermente mentre rivela gli ostacoli aggiuntivi che sta affrontando. Nonostante i momenti difficili, Eleonora si aggrappa alla speranza e alla positività. Ha affrontato un intervento chirurgico per gestire un'ulteriore complicazione, dimostrando la sua resilienza straordinaria. Nel video, Eleonora non manca di ringraziare suo figlio, Paolo Ciavarro, e inaspettatamente anche il suo ex marito, Massimo Ciavarro. Confessa con gratitudine. Infine ringrazia anche tutti i suoi fan e dice, «È evidente che il sostegno della comunità online gioca un ruolo cruciale nel mio viaggio di guarigione.